La definizione di un prezzo per l'acquisto del gas dalla Russia da parte dell'Unione Europea è l'unico tassello mancante affinché si interrompa questo vortice negativissimo per i prezzi in generale dell'economia europea, innescato dalle furbizie con le quali, come al solito, la Russia si approccia alla relazione che politicamente dopo la guerra è diventata una relazione davvero difficile da gestire tra Russia ed Unione Europea. Una relazione che è stata minata al suo interno dopo decenni di tentativi di collaborazione costruttiva, in particolare sul tema della fornitura energetica, con particolare attenzione al tema del gas, oggi quel particolare è diventato lo strumento, l'arma attraverso la quale Putin, oltre ad aver aggredito la Russia, destabilizza le politiche di prezzo all'interno dell'Unione Europea. Falsa l'obiezione che alcuni paesi, tra cui la Germania, hanno avanzato, secondo la quale il prezzo del gas non può essere fissato perché questo metterebbe a rischio la quantità delle forniture di gas da parte della Russia, perché questo già è avvenuto. Per aumentare ulteriormente il prezzo la Russia ha ridiminuito le forniture, contraddicendo quella che era un'obiezione facilmente superabile. Adesso si riconosca che questa è l'unica possibilità e si proceda immediatamente affinché venga tutelato l'interesse delle imprese e delle famiglie europee.